Allora, io mi sono affezionato parecchio a queste modalità, quindi la maggior parte delle partite ve le porterò in questa modalità perché è bella e a me mi piace giocare di più a queste modalità che altre, singolo, coppia, beh sì, anche con coppia e squadra mi piace. Il singolo più o meno, non ci gioco tanto però fa niente e cosa volevo dire di altro, ah sì è un video breve e quindi in questa modalità proverò a portare kill più kill fatte da me ma non aiutato dagli altri come ho fatto in questa partita e vi lascio Bella tui grazie, benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Oggi andremo a giocare, andremo a fare una partita di Fortnite e vi dico, era mezzanotte, stavo giocando e non ho parlato perché mio fratello dormiva, mia mamma dormiva e siccome sapete mio padre è in Inghilterra, quindi per quello che non ho detto mio padre e niente, ho lasciato un bel mi piace, io vi lascio al video e buona visione. Ah, mi sono dimenticato una cosa, guardate il video fino alla fine, se no non c'è senso e guardate la parte più bella, buona visione. Oh, my God. non dimenticare non dimenticare i am coming oh fuck oooooh i am i am oh i am oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ditevi di iscriversi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video di Fortnite. Bye a tutti ragazzi.